Tutti i poteri nelle mani di Enrico Bondi. Non per sempre, sia chiaro, ma per 12 mesi rinnovabili sino a un massimo di 36. Il tempo necessario di traghettare l'ILVA fuori dalla crisi, assicurando al tempo stesso continuità aziendale e rispetto ambientale. Due fattori che adesso marciano alla pari. Il governo italiano ha varato il decreto per salvare il siderurgico che è stato firmato a tempo di record dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Una sorta di salva-ILVA bis che affide il ruolo di salvatore all'amministratore delegato di missionario. Uno strumento eccezionale per una situazione eccezionale, con l'intento di evitare il peggiore tra gli scenari possibili, la chiusura dello stabilimento. Un colpo durissimo per l'economia dell'Italia e devastante per l'occupazione. Tutti i poteri sono in mano al commissario straordinario, anche se non è stato sospeso il diritto della proprietà di vendere. Un escamotage che strizza l'occhio al gruppo Riva e che consente di gestire la l'azienda, rispettando tutti i criteri di risanamento ambientale. Ma il piano del governo non è stato accolto da tutti con entusiasmo, a destra come a sinistra. L'ex ministro del PDL, Raffaele Fitto, ha parlato di es proprio di fatto e della necessità di tornare in Parlamento per apportare modifiche ad un decreto che, così com'è, toglie credibilità al Paese e agli occhi dell'Europa. La scelta di Bondi lascia invece l'amaro in bocca al Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Inquinatori, bonificatori e risanatori non possono essere tutti nello stesso mazzo, ha dichiarato il governatore, che avrebbe preferito invece un taglionetto con il passato. Ma la strada della continuità è risultata alla fine l'unica immediatamente percorribile, almeno sotto un punto di vista pratico. Occorreva, cioè, ha spiegato il ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato, una persona immediatamente operativa, un amministratore in grado di attuare l'indirizzo dato dal governo. E una gestione del genere non si può improvvisare.